Se volete acquistare crediti fifa a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto SBO- Bella ragazza Ragazzi di parla Bella ragazzi Ok oggi non facciamo un intro siamo qui con Prax, Dredd e Gravi squadra E siamo qui per fare una partita 2 contro 2 Come al solito su quelle squadre casuali E al mio Dredd fingeremo un quadrato Lo spingeremo io e Dredd 1, 2, 3 Va bene dai Alla sarà airquakes contro l'IMS Cioè questi si chiamano Ma lo è ovviamente a buzia Che hanno lo sponsor di l'Alacost Questi si chiamano terremoti Alla le squadre sono io frax contro capo Ovviamente io gioco con l'handicap però ciao Che fa frax in squadra LOL E si parte Io sono il giallo Le squadre ovviamente non sono molto forti quindi E fallo Arbitro Oddio ma lui da quanto corri rega Corri dritto per dritto Oh mio Dio No fermi rega Rega fa Tira Goal 1 a 0 Quanto corre questo E' un cavallo rega Aspettate rega comunque C'hai tasti sbagliati No veramente Non mi correva No ho fatto così non mi correva Sì 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 Subito 1-2 Lo vedi al centro Grandissimo Il tiro E E' un cavallo rega di azione del cavallo C'è il cazzo Come giocano i grazie di Daryl Si ottimo Contempismo No ho sbagliato tu Ah ah fuori il gioco Ah fuori il gioco Brava il gioco Gabbo dei passi Eh non fare FIFA E' grazie al cazzo Oh istruzione è istruzione ooo ma buono fallo fuori gioco chi stanno? oh madonna stanno muando che caso fa quello? perchè indica? ma pure colpo ci ha messo attore ooooh oh guarda che c***o ma che c***o è? è un gol brutto ah no non hai detto? è orribile bello che ti posso fare se non sanno fa un passaggio pensano che si gioca con le mani questi quanto vuoi? vai in mezzo vai in mezzo vai in mezzo ma chi è francis? questo vai oddio ma che cosa? ma come ha fatto? dai fra che viene giù tutto è giù il palazzo è giù il mondo no copre mamma mia mettere il fisico cerone ci mette di fisico manda andà vabbè 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 no capo cos'era quella cosa? cosa? erano costi in mezzo vai mandalo buona bellissima ma proprio col cazzo è tagliato tagliato come il fumello è il fumello bono camocura non ci arriva nessuno dei miei tira fuora ah che cazzo? ha sticcato finito il signore saian contro due a uno più meritato della storia ma perché sei più meritato della storia secondo te? perchè non è per lui bello 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 parca puttana parca vero perchè fai gli interventi killer? guarda guardalo la merda vabbè cosa? la pagazzola non ci arrivo bravo bomber bravo bomber curva nord vedi di rompermi la sedia guarda fuori merda tiraci ma perchè mi viene addosso? cosa è questa cosa? bello grande che spazzata signori dammi la punizione cosa gambo spingiatassi a caso? ma che l'hai fatto? era l'inserimento della madonna porca madonna ho portato la palla guarda mettila in mezzo è bellissima levate non se ne andava ma perchè sbagliano sti passaggi? perchè hanno mezza vita ma la punizione del secolo la segna lui signori non mi avrò fatto l'adesimo quindi è il meritato è il meritato è il meritato ma che t'assoppata dai giù parla io farò loro finisce qui signori finisce qui una vittoria in po' ok finita a sfuggire però ok e finita qui niente come sempre non ho voce comunque hanno rubato hanno rubato una città grazie tirate da centrocanto hanno rubato è la partita più meritata è il 2 a 1 più meritato della storia città città e in descrizione troverete i loro canali dai canali è tutto sempre piaciuto questo video arriviamo a 10 via like come sempre al prossimo video bella bella ciao Ciao